Un pochino più chiuso, no io vado con Mamat, anche se il cavallo sarebbe Sbadiglio. Partiti! In vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Katnipfan, Alabama Song e Mamat. Dopo 200 metri di corsa, posizioni invariate con Prince Douglas in vantaggio davanti ad Alabama Song con all'esterno Sbadiglio, seguono Katnipfan e Mamat. Prosegue in vantaggio Prince Douglas nei confronti di Alabama Song e Sbadiglio, a seguire Katnipfan e Mamat. All'inizio della curva è sempre in vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio con all'interno Alabama Song, seguono Mamat e Katnipfan. Poco prima dell'ingresso addirittura, in leggero vantaggio Prince Douglas davanti a Sbadiglio, Alabama Song e Mamat. I cavalli entrano in dirittura. Con Prince Douglas in vantaggio lungo la corda, davanti a Alabama Song, Mamat, Sbadiglio a centropista e Katnipfan. E' sempre in vantaggio Prince Douglas attaccato all'esterno da Mamat, passa Mamat davanti a Prince Douglas, Katnipfan, Alabama Song e Sbadiglio. Si avvantaggio a Mamat davanti a Prince Douglas e Katnipfan e Alabama Song. Allora Mamat con grande facilità e con il nostro Giorgio Perovic in sella, ma come ha corso male Sbadiglio. è uscito male dalla curva, quindi ha perso un po' di terreno lì, si è messo al vento quasi in solitudine, non ha trovato l'azione in dirittura, quindi una prestazione negativa rispetto alla eccellente ultima sortita che lo vedeva davanti a Prince Douglas, vabbè, Prince Douglas l'aveva fermato in quella circostanza, ma comunque lo vedeva in lotta bene, insomma. Quindi il dato negativo è la prestazione sotto tono di Sbadiglio, senza nulla togliere all'eccellente performance di Mamat.